benvenuti nel podcast della psicanalista Laura Pigozzi alla radice delle dipendenze affettive in famiglia in coppia e nei gruppi laurapigozzi.com laurapigozzi.it allora oggi parleremo di una cosa abbastanza nuova di una cosa che ho saputo solo questa mattina quando mi hanno chiesto quando una radio mi ha chiesto di essere intervistata su questo argomento un argomento che mi ha lasciato devo dire piuttosto basita già lo sapete che sono abbastanza come dire conosco abbastanza bene i meccanismi delle relazioni tossiche ne ho scritto parecchio però questa tossicità che sarà che viene istituzionalizzata attraverso un'app che adesso vi racconto mi lascia davvero non dico senza parole perché voglio voglio farci un podcast però è abbastanza inquietante allora che cosa sta succedendo sta succedendo questo che sarà presto possibile avere anche in Italia una nuova funzione di Tinder Tinder è una piattaforma di incontri dove è essenziale essere maggiorenni non so bene se poi si controlli questa cosa comunque diciamo che è una piattaforma di incontri per maggiorenni in questa funzione di Tinder in questa scusate in questa applicazione di Tinder è stata creata una funzione che si chiama matchmaker cioè praticamente che cosa significa significa che è un'applicazione che è una funzione che consente ad amici e parenti parenti di fornire opinioni sui potenziali nuovi incontri quindi io ho intenzione di incontrare una persona cioè vedo su Tinder una persona che mi interessa mando questo profilo a 15 persone che che possono essere anche che possono anche non essere iscritti a Tinder mando questo profilo a 15 persone mando alla mamma il papà lo zio all'amica cugino insomma 15 persone e chiedo loro di darmi un parere questa cosa questa funziona a una vita di 24 ore quindi è un scambio rapido io in 24 ore so questi 15 parenti e amici che cosa pensano però attenzione non è detto che io sappia che cosa pensano personalmente perché perché per gli amici e parenti che sono fuori da Tinder c'è la possibilità di rimanere anonimi quindi io ti posso dire sì va bene no non va bene se mi piace no non mi piace questa persona che vuoi incontrare ma te lo posso dire in modo anonimo allora questo questa 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 funzione della piattaforma è introdotta in Australia Stati Uniti Brasilia in 15 paesi Spagna Thailandia Vietnam Germania Francia eccetera in Italia sarà disponibile a breve quindi mi chiedo se non sia un giocattolo per i plus genitori cioè quelli che ancora a tarda età si appassionano e sono attenzionati dalle esperienze intime dei loro figli ormai maggiorenni si presuppone ora questo questa idea allora gli sviluppatori di Tinder hanno detto che questa idea gli è stata suggerita da dai genitori sostanzialmente che volevano dare anche se non iscritti a Tinder dare una valutazione sulle persone che i loro figli incontravano perché perché erano stanchi di tutti questi incontri andati a vuoto ora è chiaro che se tu hai un genitore che vive ti vive sulla spalla e vuole sapere dove vai cosa fai chi vedi è facile che gli incontri vadano a vuoto ed è difficilissimo che uno possa funzionare quindi questa è una come dire un gatto che si mangia la coda nasce prima l'uovo la gallina dunque ma entriamo in questo della riflessione su questa questione dunque significa che se anche io volessi parlare con un'amica ma anche con la mamma o anche col papà che già è un'aberrazione no però ammettiamo che io sono su Tinder e voglio parlare alla mamma al papà alla zia alla nonna della persona che voglio incontrare già non si fa ma se si fa almeno ho la possibilità di raccontare non che c'è la mamma il papà la zia la nonna che controllano direttamente sull'applicazione la persona con cui voglio uscire poi se io ti racconto se mi togli la possibilità del raccontare mi togli la possibilità di pensare cioè se io ti racconto che cosa mi è piaciuto di questa persona in quel momento lo sto anche elaborando quindi può darsi che nel raccontartelo poi io stessa dica no ma forse non è il caso di uscire con questa persona ma se tu come dire togli la possibilità di dire che cosa di me che cosa di questa persona mi piace mi togli la possibilità di essere un soggetto dentro una possibile eventuale relazione quindi è come una specie di istituzionalizzazione del passaggio all'atto violento e perverso di un genitore controllante e il passaggio all'atto voglio proprio dirlo in questa maniera psicoanalitica passaggio all'atto che può essere di un genitore ma attenzione anche di un amico perché ci sono anche degli amici che sono controllanti ci sono delle amiche che vogliono sapere tutto e sono delle controlline quindi non è che sono solo i genitori così allora questa funzione è abbastanza imbarazzante perché istituzionalizza il controllo genitoriale cioè non è solo il giocattolo del genitore plus materno ma istituzionalizza il fatto che un genitore possa dare un giudizio su una persona che manco tu hai ancora conosciuto ti toglie la possibilità di fare quel minimo di pensiero quindi è una cosa grave perché cosa succede? succede che tu non ti fidi più di quello che pensi vedo una persona, vedo il suo profilo, lo studio, sento che linguaggio usa sono tutte informazioni che mi permettono di elaborare un pensiero mi permettono di elaborare una valutazione ora se io ho bisogno di 15 persone che mi danno una valutazione se poi sono i genitori è ancora peggio ma anche se non sono i genitori, se sono solo amici finisce che non mi fido più neanche di capire se c'è una persona con cui voglia uscire a bere un caffè in centro perché diciamolo quando si incontra nelle chat o nelle applicazioni per incontri nelle app per incontri ovviamente non è che si esce cioè la prima volta che si esce con qualcuno o con qualcuna si esce in un luogo pubblico molto frequentato per un caffè per capire un attimo anche l'altro com'è ma anche solo per capire se la foto corrisponde alla persona quindi finisce che io mi cresco o appunto sono già magari anche adulto un adulto che non si fida di quello che vedo non si fida di quello che sente se non c'è la supervisione dell'altro questo è un problema è un gravissimo problema ne approfitto perché non voglio fare una trasmissione a parte un podcast a parte ma ne approfitto per dire di un'altra notizia di due giorni fa una notizia che ho letto di queste madri e mamme in affitto cioè che cosa significa negli Stati Uniti una signora ha messo su un business di mamme in affitto che aiutano gli studenti fuori sede gli aiutano a appunto gli portano un pasto caldo gli stirano il bucato gli prenotano la visita da un medico cioè tutte quelle cose per le quali magari noi abbiamo pensato che era meglio che i figli studiassero lontano perché così potevano organizzarsi in cose in cui magari abbiamo un po' esagerato noi a fargli trovare pronte invece no invece no non hanno la possibilità di emanciparsi nemmeno lontano da casa perché opla 10.000 euro l'anno e la mamma in affitto è pronta a sostituirti ed occuparsi di tuo figlio non facendogli mancare appunto nulla quindi può anche non cucinare mai diciamo ecco quindi questa queste notizie sono drammatiche tra l'altro sono notizie appunto in pochi giorni sono drammatiche perché se noi stiamo così appresso ai nostri figli se noi non vogliamo che facciano l'incontro sbagliato che poi appunto ripeto si trasformerebbe magari in un caffè preso in centro ma se noi vogliamo che loro non abbiano delle frustrazioni che non facciano degli errori che non cadano significa che non camminano cioè se uno non cade non cammina non possiamo far finta che loro possano vivere in un mondo finto dove non ci sono inciampi perché il mondo è fatto di inciampi ma se noi siamo lì continuamente a dargli il nostro parere su persino su con chi andrà a prendere un caffè per vedere se è il caso di approfondire l'amicizia li facciamo diventare appunto persone finte che credono in un mondo finto e quindi persone che resteranno un po' disadattate certo se una persona che si iscrive a Tinder allora una volta sono entrata in Tinder per curiosità professionale perché avevo appunto una paziente che lo frequentava quindi mi sono iscritta per vedere come funziona sono rimasta abbastanza allibita perché le foto profilo spesso non sono delle foto divisi ma sono delle foto anche di parti intime delle persone quindi è chiaramente una app di incontri un po' spinta dunque se io penso che mia madre possa decidere sulla base di una certa foto se io posso uscire con un certo uomo e non è la foto del viso capite che è veramente un po' imbarazzante cioè c'è un'orribile commistione un'orribile confusione quindi significa che se io ho bisogno della mamma per entrare in Tinder sono un po' disadattata sostanzialmente quindi è questa possibilità dei genitori e degli amici anche degli amici va bene passi però con un'amica preferisco uscire raccontare dell'incontro che ho avuto e sentire il suo parere è questo che si fa tra umani non si mettono i like anche perché questo like che tu metti questo marker che tu metti all'incontro, al match è un like senza spiegazioni quindi è sì, no quindi è veramente qualcosa di disumanizzante bene, ecco dunque volevo dirvi questo perché qui siamo davvero a una forma di utilizzo delle app che lascia davvero sbigottiti grazie avete ascoltato il podcast alla radice delle dipendenze affettive in famiglia, in coppia e nei gruppi laurapigozzi.com laurapigozzi.it grazie grazie